Questa mattina parliamo di un interessante rapporto, di una ricerca Istat sulla povertà nel nostro paese. Siamo collegati via Skype, per questo la ringraziamo con la dottoressa Valeria De Martino, ricercatrice in Istat nella Direzione per le Statistiche Sociali e l'Uelfar. Si occupa degli indicatori di povertà e di indagini sulle popolazioni a maggior rischio di discriminazione. Buongiorno dottoressa De Martino, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno. Partiamo da questi numeri dottoressa, oltre 2 milioni di famiglie e quasi 6 milioni di persone sono in povertà assoluta. Innanzitutto cosa si intende per povertà assoluta e qual è la differenza tra povertà assoluta e povertà relativa? Sì, sono fondamentalmente due concetti abbastanza diversi. Mentre la povertà assoluta si riferisce a un paniere che noi stabiliamo a priori di beni e servizi. Questo paniere è suddiviso in tre macro componenti, una componente per l'alimentare, una componente per l'abitazione, una componente residuale. E quindi questo paniere è istituito e quest'anno è stato rinnovato attraverso la joint venture con università e istituti di ricerca. E quindi è stato rinnovato nella sua composizione, nella sua definizione rispetto al paniere precedente del 2005. Una volta concepito questo paniere noi riusciamo a capire quale sia la spesa che una famiglia tipo deve affrontare per evitare gravi forme di esclusione sociale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni tipologia familiare e per le diversi classi di età della famiglia noi riusciamo a calcolare una soglia ipotetica per la quale possiamo confrontare le spese medie di ciascuna famiglia. Le faccio un esempio, ossia una famiglia di due persone sicuramente avrà delle necessità e delle spese che sono molto diverse rispetto a una famiglia di un'ampiezza più grande e anche si prende in riferimento la residenza di questa famiglia. Ossia sostanzialmente la nostra soglia, quindi la soglia di povertà assoluta, e quindi non è una soglia unica, ma ce ne sono molte che variano a seconda della composizione della famiglia, della classe di età dei componenti, della regione di residenza e dell'ampiezza del comune di riferimento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuna famiglia, ciascuno di noi per esempio, può calcolare la propria soglia di povertà assoluta. Cosa ben diversa è invece la povertà relativa, poiché è un indicatore endogeno alla distribuzione delle spese per consumi. Ossia noi calcoliamo una spesa media per una famiglia di due persone e quest'anno è pari a 1150 euro, e quindi è un indicatore più limitato, perché? Perché costituisce una misura della distanza tra le varie spese delle famiglie all'interno della nostra distribuzione. Quindi non prende comunque in considerazione le differenze di potere d'acquisto tra le famiglie residenti al nord, al centro, al mezzogiorno, bensì ci calcola solamente la distanza tra la spesa effettuata da una famiglia, per esempio nella distribuzione bassa dei consumi, e una famiglia che invece risiede nella distribuzione più alta. Ecco, Tony ha citato i numeri che naturalmente sono emersi da questa ricerca. 2 milioni di famiglie e quasi 6 milioni di persone sono in povertà assoluta. Dottoressa De Martino, questo peggioramento a che cosa è imputabile? Sì, diciamo che appunto noi calcoliamo per capire qual è esattamente la situazione, due principali indicatori. Ossia, calcoliamo l'incidenza, calcoliamo quante famiglie che hanno una spesa pari o sotto la soglia, a quel punto sono considerate in povertà assoluta, ci sono in Italia rispetto al totale delle famiglie residenti. Un altro indicatore che noi calcoliamo è l'intensità della povertà, ossia l'intensità ci dice invece di quanto la spesa della famiglia dista dalla soglia di povertà assoluta. Ebbene, questo indicatore, l'indicatore dell'incidenza, è pari all'8.3%, in crescita rispetto al 2021 dove era pari al 7.7%. Per quanto riguarda invece gli individui, l'indicatore è pari al 9.7%, anch'esso in crescita rispetto al 9.1%. Ciò che abbiamo studiato, una delle cause principali, è l'aumento dell'inflazione nelle spese di queste famiglie. Come ben sappiamo, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo è pari all'8.7%, ma noi abbiamo comunque studiato qual è sia l'impatto di questa inflazione per le famiglie meno abbienti e questa inflazione è pari al 12.1%, mentre per le famiglie più abbienti, ossia che sono nella parte alta della distribuzione delle spese, è pari al 7.2%. Quindi diciamo, un primo indizio che ci dice la motivazione per cui questo indicatore è cresciuto è quello dell'inflazione alta. Un altro indicatore, per fortuna abbiamo avuto appunto i bonus per l'energia e il gas che sono stati nel 2022 potenziati sia come platea di beneficiari che come importo e questi hanno, diciamo, rallentato la crescita della povertà assoluta secondo i nostri calcoli di 7 decimi di punto. Quindi diciamo, questa è la causa principale dell'aumento della povertà assoluta. E se volessimo fare un riferimento invece per aree geografiche tra nord, sud e centro Italia, com'è la situazione? Purtroppo il nostro mezzogiorno ha il triste primato di registrare sempre un'incidenza molto alta di povertà assoluta e nel mezzogiorno tale indicatore è pari al 10.7%, mentre come seconda ripartizione geografica abbiamo il nord in cui l'incidenza è pari al 7.5% mentre il centro poi segue con il 6.4%. Le dicevo che appunto noi calcoliamo anche l'indicatore dell'intensità e questa intensità, ossia quanto poveri sono i poveri, quest'anno ci invia un segnale leggermente più rassicurante, ossia l'intensità è leggermente diminuita. Questo che cosa vuole dire? Vuol dire che sono entrate in povertà assoluta delle famiglie che sono molto vicine alla propria soglia. E quindi questo vuol dire che appunto le famiglie sono diciamo in una situazione meno grave di povertà. Abbiamo qualche speranza che con la ripresa magari dell'economia queste famiglie riescono a uscire dalla situazione di disagio economico. All'inizio appunto faceva riferimento alle esigenze di una famiglia con più componenti sono diverse da quelle di una famiglia composta da due persone. Quindi è emerso anche che è peggiorata la situazione di famiglie che hanno più figli, soprattutto se sono minori. Sì, dai nostri studi praticamente vediamo che le famiglie che sono a maggiore disagio economico sono le famiglie con cinque o più componenti, quindi le famiglie più numerose. L'incidenza per queste famiglie è pari al 22,5%. Se la paragoniamo a quella diciamo all'incidenza nazionale che è pari all'8,3% vediamo appunto tutto il disagio che queste famiglie devono affrontare. Seguono poi quindi c'è diciamo una correlazione abbastanza diretta con la numerosità familiare poiché le famiglie di 4 componenti sono all'11% e quelle di 3 all'8,2%. Quando appunto vediamo la presenza di figli minori questa incidenza arriva al 22,3%. Ma vediamo dei problemi anche per le famiglie che noi classifichiamo di altra tipologia, ossia le famiglie che magari per necessità devono avere un'unica residenza e le famiglie in cui coabitano più nuclei familiari. In questo caso l'incidenza è pari al 15,6% e un altro segnale lo vediamo per le famiglie monogenitoriali dove l'incidenza è pari all'11,5%. Abbiamo visto anche che l'istruzione e il lavoro forniscono una protezione nei confronti della povertà assoluta. Infatti le famiglie che hanno come persona di riferimento una persona che abbia il diploma di scuola secondaria l'incidenza è pari al 4%. Mentre per coloro che hanno come persona di riferimento una persona che abbia solamente al più la scuola media tale incidenza è più elevata e pari al 12,5%. Che cosa succede invece nell'ambito del mercato del lavoro? Nel mercato del lavoro a seconda della posizione e dell'occupazione o non occupazione la situazione cambia moltissimo perché abbiamo visto che le famiglie in cui la persona di riferimento è inquadrata come operaio e quindi negli inquadramenti più bassi l'incidenza è più elevata e pari al 14,7%. E un altro problema lo vediamo per le persone autonomi e indipendenti dove la povertà è pari all'8,5%. Non ne parliamo poi se nella famiglia questa persona di riferimento è invece in cerca di occupazione in cui quindi il disagio si fa sempre più presente infatti l'incidenza sale al 22,4%. Per quello che mi chiedeva per quanto riguarda i minori purtroppo ci sono 1.269.000 minori in povertà assoluta come li abbiamo contati? A seconda delle ipotesi di base un bambino che appartiene a una famiglia in povertà assoluta è esso stesso povero assoluto ossia noi calcoliamo l'indicatore a livello familiare e poi trasponiamo questo conteggio a livello individuale e vediamo quante sono le famiglie che hanno dentro la loro composizione dei minori e queste famiglie sono ben 720.000 quindi è importante dare questi numeri per poter dare degli strumenti per l'eventuale strutturazione di politiche che aiutino queste famiglie a uscire da questa condizione di disagio poiché le opportunità perse dei bambini poi non sono più recuperabili Grazie dottoressa grazie anche per averci spiegato a cosa serve tutto il lavoro che fate quotidianamente speriamo che serva molto a cambiare le cose ci impegniamo molto proprio per fornire gli strumenti più utili per dare dei dettagli su dove intervenire esatto grazie ancora ringraziamo la dottoressa Valeria De Martino primo ricercatore Istat per essere stata con noi e allora speriamo di risentirci il prossimo anno per l'aggiornamento di questo 2023 speriamo di trovare delle indicazioni e dei numeri diversi grazie ancora buon lavoro volentieri siamo a disposizione buongiorno buon lavoro grazie e allora caro Toni noi ci fermiamo qualche istante linea alla regia e poi ascolteremo le parole di Don Francesco Armenti con il suo dritto al cuore grazie Grazie.